Svegliati Amore mio Siena, rimane orfano di patria 15 anni dopo che il papà, paracadutista, perde la vita in un incidente sul lavoro. Francesco Arca diventa noto al pubblico come tronista di Uomini e Donne. Partecipa alla terza edizione del reality La Fattoria per inziare poi la carriera da attore. Nel 2009 prende parte al film Scusa ma ti voglio sposare. Nel 2019 è protagonista, con Kasia Smutniak, del film di Ferzano con di Eresipete callacciate le cinture. Francesco Arca è papà di due figli, Maria Sole, di 6 anni, e Brando Maria, di 3 anni, avuti con Irene Capuano. Grazie a tutti.